E ancora buongiorno Friuli, un buongiorno anche per l'Udinese e tutti i suoi supporters dopo la bella e importante vittoria di ieri in trasferta contro il Bologna. Abbiamo già visto prima sulle prime pagine dei quotidiani locali i titoli che ci raccontano questo successo sul messaggero veneto Zampata Zappata Bologna KO, questo è il titolo scelto dal messaggero veneto per aprire le pagine dedicate proprio all'Udinese. Attenzione puntata su Zampata, autore della rete del 2 a 1, ma tanti meriti secondo il messaggero veneto anche a Totò di Natale. Andiamo nelle pagine interne, andiamo nella prima pagina del fascicolo sportivo del lunedì e leggiamo infatti il titolo di apertura, Entra la luce e l'Udinese rimonta. Brutto primo tempo a Bologna, bianconeri sotto, in campo Lodi e Totò e la musica cambia. Vediamo anche il titolo del commento di Antonio Simeoli che dice brodo con i tortellini che ci voleva proprio dopo quattro sconfitte consecutive. E prima di analizzare i vari commenti che troviamo sui quotidiani di oggi andiamo a rivederci subito le azioni principali e a rivivere le emozioni di segno nettamente opposto fra il primo e il secondo tempo vissute ieri allo stadio Dall'Ara di Bologna. Sfida Dall'Ara tra due squadre che hanno raccolto poco, così hanno detto Colantuono e Rossi. Renato Dall'Ara tinto ovviamente di rosso-blu, Emanuele Giaccherini scelto proprio da Delio Rossi a sorpresa. Rientra da un infortunio mentre di Natale va in panchina, gioca Duvan Zapata nel 4-3-1-2 scelto da mister Colantuono che vuole dare continuità. Lo splendido secondo tempo visto contro il Milan, 400 tifosi bianconeri a seguire l'Udinese in quel di Bologna. Il fischio di Gervasoni, partita condizionata da un po' di paura nelle primissime battute, rompe l'equilibrio il Bologna. Splendida giocata di Rizzo all'interno dell'area di rigore, gran palla per Mounier, perso da Piris e 1-0 del Bologna. Colpisce però l'errore difensivo da parte di Turra che si fa scavalcare un po' troppo facilmente da Luca Rizzo che mette in porta Mounier per il secondo gol in campionato, sempre al Dall'Ara, sempre in quella porta. I tifosi del Bologna sperano sempre decisivo ma non sarà così perché l'Udinese risponde, duetto, Marchigno-Terò, il tiro di Marchigno. La palla che finisce fuori di poco, bello il sinistro da parte del brasiliano. Oggi schierato trequartista a sorpresa da mister Colantuono che ricordiamo però non poteva disporre di Bruno Fernandes squalificato. Ci prova ancora il Bologna con un sinistro di Brienza, facile per Carnezis che si accartoccia. Brienza è entrato al posto di Giaccherini che si era infortunato alla mezz'ora, sfortunatissimo. Secondo infortunio stagionale per l'ex Juventus, Brienza poi grazie all'Udinese all'ultimo minuto del primo tempo. Grande sponda di Mattia destro, il sinistro di Brienza da posizione ravvicinata, palla che finisce fuori di molto. La rabbia di Danilo perché nei Turra né Marchigno chiudono su Brienza, liberissimo di calciare. Ma per fortuna dell'Udinese liberissimo di calciare male. Finisce così il primo tempo, svolta tattica di nuovo. Per Colantuono si ripassa al 3-5-2 ma soprattutto esordio. Secondo in maglia bianconera per Francesco Lodi, fuori Iturra. abbastanza negativa la sua prestazione quest'oggi. Proteste del Bologna per questo tocco di Danilo con la mano ma diciamo che poteva non starci il calcio di rigore. Tra l'altro tocco di mano avvenuto fuori area. Poi il grande lancio di Edenilson, la difesa rosso-blu si perde. Badu che tira una prima volta, la grande parata di Mirante, poi di rabbia. Badu, la scaraventa di nuovo in rete per il suo secondo gol consecutivo. Baccia a terra, Emanuel Badu, gran palla di Edenilson. La difesa del Bologna da rivedere, uno dei pochi errori della partita della coppia centrale. Oiconomo Rossettini, Badu è famelico a fiondarsi. Nuovamente sul pallone con il destro, scaraventarla nella porta sguarnita. Il Bologna reagisce subito con grande grinta sull'errore di Carnezis. Lo stesso portiere greco, bravissimo, con il tallone a ipnotizzare Franco Brienza. Tutto era nato da un rilancio avventato di Orestis, che poi ci mette la famigerata pezza. In questo caso con una parata davvero da applausi. Più riproposizioni nel grande gesto tecnico del greco. Spinge l'udinese sulla sinistra con Ali Adnan. Colpo di testa di Duvan Zapata, perso da Rossettini. Palla che si adagia sulla parte alta della rete. Mirante che non ci arriva, poi arriva il grandissimo gol. Triangolo Badu di Natale, Masina involontariamente. Serve Zapata, che la mette in fondo al sacco. E purtroppo si fa male, si sospetta uno stiramento. Anche se il colombiano è stato abbastanza positivo nel commentare questo infortunio. Ha detto forse qualcosa di meno. Comunque Glaciale e Zapata, terzo gol consecutivo per il colombiano. Dopo quelli contro Empoli e Milan. Davvero una grandissima zampata decisiva. L'udinese vince e porta a casa i tre punti. Seconda vittoria. La seconda vittoria ottenuta in trasferta per l'udinese di Stefano Colantuono. Che finalmente può sorridere. E invece comincia a mancare l'ossigeno a Deglio Rossi. Queste dunque le immagini. Torniamo adesso sui commenti. Dopo partita, per un tempo si erano viste le streghe. Dice oggi Bruno Pizzul sul Messaggero Veneto. Poi fortunatamente, come abbiamo visto, le cose sono cambiate. Badu Zapata, gli autori dei due gol. Gli stessi che avevano segnato anche contro il Milan. L'udinese rinasce. Il leganese agguanta il Bologna. Il colombiano piazza lo scavetto del sorpasso. Ma si infortuna. Ci dice questo titolo del Messaggero Veneto. Andiamo a leggere le prime righe dell'articolo dell'inviato a Bologna, Pietro Oleotto. Senza sapere quando, di colpo, all'improvviso, rimontando. L'udinese piazza il colpo a Bologna, evitando la quinta sconfitta di fila. E di cantare, anche andata senza ritorno, come nel tormentone dell'estate italiana. Con quella andatura c'era il rischio di arrivare a Sanremo belli cotti, senza pure la necessità di vedere come andrà il resto del girone di ritorno. Un pericolo passato, come un testimone da staffetta, al Bologna, dai Pozzo, dal progettista della squadra, Gino, e dall'armatore, Gianpaolo, che non potendo cambiare i mozzi fino a gennaio, altrimenti sarebbero stati tentati di gettare a mare il timoniere Colantuono. Così come pensano di fare qui in Emilia, con Delio Rossi, il nome di Donadoni e Caldo. Anche perché, per un tempo, la nuova rotta indicata ieri dal tecnico bianconero, il 4-1-3-2 con il rombo a centro, non aveva funzionata. Si è vinto con il 3-5-2, e questo, il sapore dello scontro salvezza, vinto con il Bologna. Il primo, dopo il KO, con un'altra possibile avversaria diretta, Lempoli. E proprio sul modulo, cambiato ieri in corso, con un ritorno al passato, punta la sua attenzione, mister Colantuono, che dopo partita ha detto che questa squadra ha il 3-5-2 nel DNA. La certezza del cola. Il tecnico spiega di aver ottenuto le risposte che aspettava. Ci ho sempre creduto, anche dopo essere andati sotto. E allora andiamo a risentire le parole di mister Colantuono. Sono rilasciate ai nostri microfoni nel dopo partita. Ma al di là degli episodi che poi sono determinanti, direi anche la buona prestazione del secondo tempo, che ha fatto potere che se vogliamo le cose le sappiamo fare e anche abbastanza bene. Poi sicuramente gli episodi sono determinanti. La vittoria è molto importante, più che altro per il morale, perché ci rida insomma slancio per affrontare le prossime. Nel secondo tempo la scelta di buttare dentro l'Odi serviva più qualità per riprendere questa partita? Ma sì, perché se giochi con un centrocampo come il nostro, insomma noi tre centrocampisti, credo che l'uomo davanti alla difesa deve essere un giocatore che sappia dettare bene i tempi e abbia geometrie. Ora, non per dare assolutamente la croce addosso a Itura, ma chiaramente è un giocatore che ha caratteristiche completamente diverse. E anche l'ingresso di Totò, insomma, determinante nell'azione del gol, che poi ci permette di strappare tre punti. va gestito così il numero 10, alternato con gli altri. Credo che sia diventato noioso anche parlare di Totò, perché ho letto un sacco, ripeto, mi ho letto un'altra volta sulla settimana passata, un sacco di stupitaggini. Totò che vuole giocare, che non vuole giocare, che impone. Totò non impone niente, si allena bene, si allena con noi tra le altre cose, fa quello che gli viene detto. È chiaro che vogliono giocare tutti sempre, ci mancherebbe che un giocatore non vuole giocare. Però lui sa benissimo che ruolo e che spazio si può ritagliare in questa dinese. Ci saranno delle partite che giocherà dall'inizio, ci saranno delle partite che entrerà in cuore. Ma come un po' tutti quelli della Rosa, qui nessuno si può dire che è al posto fisso, assicurato. È un discorso così, in più Totò c'ha 38 anni, quindi dobbiamo anche gestirlo da un certo punto di vista. Però poi il giocatore entra, con la giocata ti aiuta a vincere la partita. Ultima battuta, penso che questa vittoria possa restituire anche un po' di sicurezza. Un'inizio che ha sbagliato qualche passaggio in più, magari ridà questi tre punti anche un po' di tono a scuola dal punto di vista mentale. Direi di sì, perché poi gli errori a volte si accavallano e arrivano perché non sei sereno, perché vieni da un momento delicato, hai perso quattro partite. Quindi l'aspetto psicologico può diventare determinante. È chiaro che giocare con una condizione di classifica diversa e con risultati positivi, strisce di risultati positivi, fa crescere l'autostima e fa crescere sicuramente anche il gioco, perché ti dà meno pensieri. Un successo chiave anche a livello psicologico. L'hanno detto anche gli altri protagonisti della gara di ieri, Zapata e anche Badu. Zapata che festeggia la prima rete pesante in bianconero, però poi, come abbiamo visto anche nelle immagini, si è infortunato ed è uscito dopo la rete del 2-1. Badu e Zapata come con il Milan, ma stavolta i gol dei Colored dell'Udinese valgono tre punti, che sono ossigeno puro per la classifica dei friulani. Allora, andiamo a sentire ancora qualche intervista, andiamo a sentire le parole di Badu, Zapata, lo vediamo nelle immagini. Devo fare domani l'esame, controllare con il dottore e vediamo che ho. La situazione è un po' strana. Prima di calciare ho sentito la coccia troppo dura. Io prima mi sono stirato quando giocavo in Argentina e adesso la sensazione è molto diversa quel giorno. Quindi penso che, secondo me, non mi sono stirato, ma domani dobbiamo fare il controllo con il dottore. Aspettiamo ovviamente questo controllo, incrociamo le dita, anche perché nonostante il fastidio, hai comunque calciato quel pallone, un pallone importantissimo perché ci fa tornare la vittoria. Eri anche in striscia positiva a livello di gol, sarebbe un peccato fermarsi per infortuni. Sì, sarebbe un peccato, ma spero, diciamo che non è niente di grave per continuare a giocare, prima per chiudere la squadra a uscire, diciamo, di questa posizione che siamo adesso, abbiamo vinto oggi. Siamo contentissimi di quello, ma sappiamo che ancora dobbiamo migliorare tantissimo. Quindi penso che adesso dobbiamo riposare e poi allenarci e lavorare per la prossima partita e cercare di vincere. Ecco, Duvan, un'ultima battuta. Parlavamo di spirito anche durante la nostra diretta, serviva una reazione importante da parte dell'Udinese. La fotografia del momento, forse proprio, tu ti fai male, però segni, mettendoci la gamba lo stesso nonostante l'infortunio. E' questa la chiave di volta che ci ha fatto portare via i tre punti, questa volontà di andare, perché insomma erano quattro sconfitte consecutive e non potevamo assolutamente uscire senza bottino, senza almeno un punto. Sì, penso che la squadra ha lottato fino alla fine, questo è lo più importante di oggi, così dobbiamo essere sempre. Abbiamo avuto un po' di fortuna anche, ma nel calcio è così, a volte si vuole la fortuna, quindi speriamo di continuare a lavorare per continuare a fare punti. E Zapata, secondo Ile Messaggero Veneto, è stato uno dei migliori in campo ieri a Bologna. A Duvan parlano i numeri, come giganteggia Vaghe. Questo è il titolo delle pagelle di Massimo Meroi. Andiamo allora a vedere velocemente i voti dati ai bianconeri. In difesa una sufficienza per tutti, sei e mezzo per Vaghe. Nel primo tempo è il migliore dell'Udinese, dice il messaggero Veneto. Sbriga un paio di situazioni delicate in area e interrompe un pericoloso contropiede. Giganteggia anche nella ripresa e a questo punto, se continua così, sarà difficile togliergli il posto. Insufficiente invece a centrocampo Adnan e anche Iturra. 5 e mezzo per Adnan e 5 per Iturra, 6 e mezzo per Edenilson e poi il 7 e mezzo a Badu. Secondo il messaggero Veneto, il migliore in campo ieri tra i bianconeri. Primo tempo insufficiente, soprattutto in fase di contenimento, ripresa da Mattatore. E così è lui l'uomo copertina della seconda vittoria stagionale dell'Udinese. Rischia di mangiarsi l'1-1 ma poi rimedia fondamentale il contributo per il 2-1 con l'1-2 assieme a Di Natale che procura l'azione del gol di Zapata. 6 e mezzo anche a Marchigno, poi abbiamo visto il 7 a Zapata. Per lui parlano i numeri, 3 gol in 6 partite e non tutte intere. E poi invece in attacco troviamo un 7 per Totò Di Natale. Andiamo a leggere anche la motivazione. Entra con la squadra in svantaggio e solo con la sua presenza cambia l'inerzia della partita. Alla fine della fiera è sempre lui a decidere le sorti dell'Udinese, zittendo chi non lo ritiene più in grado di reggere certi ritmi. Per conferma andate a rivedere l'assist no-look a Badu per l'azione che decide la partita. Bello al fischio finale l'abbraccio con Colantuono. E poi ancora qualche voto. 6 e mezzo a Lodi. Buono quindi il suo secondo esordio in bianco-nero. 5 invece a Terò. Troppo discontinuo, dice il messaggero Veneto. Non si riesce a capire come possa passare dal secondo tempo travolgente con il Milan alla prova anonima di ieri. E poi in chiusura 6 anche a Pasquale, entrato a gara in corso, e 6 anche all'arbitro Gervasoni. Queste dunque le pagelle del messaggero Veneto. Andiamo a vedere anche il gazzettino. Così diamo un'occhiata anche ai titoli principali e alle aperture del gazzettino. Eccolo qua. La squadra ha dimostrato di essere viva e propositiva. Il gazzettino riprende le parole di Colantuono, che si è detto, come abbiamo sentito, soddisfatto della prestazione dei suoi. Per quanto riguarda l'amo viola, il gazzettino sottolinea una cosa, il fatto che Badu segna in posizione irregolare, secondo l'amo viola del gazzettino. E poi andiamo a vedere anche un dato di cronaca extracalcistica riportato oggi dai quotidiani. Andiamo a vedere quel che è successo. Purtroppo nel dopopartita fra Udinese e Bologna ci sono state delle sassaiole tra tifosi. Ecco il titolo dell'articolo che ci racconta l'accaduto. I tifosi dell'Udinese presi a sassate, colpiti i pullman dei club di Fagagna e Roveredo in piano dopo la partita. Un ferito lieve per l'esplosione di un finestrino. La gioia per i tre punti guadagnati sul campo del Bologna è svanita ad un tratto nei cuori dei sostenitori bianconeri verso le 18 di ieri nei pressi dei Giardini Zanardi, 400 metri dallo stadio Dall'Ara, quando i pullman su cui viaggiavano sono stati raggiunti da alcuni grossi sassi. Ad avere l'appeggio è stato il bus dell'Udinese club di Fagagna, colpito a uno dei finestrini che è letteralmente scoppiato, offrendo fortunatamente in maniera non grave uno dei tifosi. Sicuramente un brutto epilogo per una giornata che era iniziata male sul fronte sportivo, ma poi ha regalato grandi soddisfazioni ai tifosi bianconeri. Andiamo adesso sulla gazzetta dello sport. Andiamo a vedere come la gazzetta racconta la partita di ieri fra Udinese e Bologna. Una gazzetta che oggi apre con la bella vittoria della Fiorentina ieri sera contro l'Inter. Andiamo, poi ritorneremo anche su questa notizia, ritorneremo su questa prima pagina, ma adesso andiamo subito nelle pagine interne e andiamo a leggere l'articolo che ci racconta Bologna-Udinese. Ecco il titolo. Al Bologna un tempo non basta. L'Udinese risorge e lo inguaia. La squadra di Delio Rossi, che resta al suo posto, domina per i primi 45 minuti e colpisce con Mounier nella ripresa. Badu e Zapata, con l'aiuto di Di Natale e Lodi, la puniscono. La volata di Badu, lo scavino di Zapata, la presenza di Di Natale e il cambio di sistema. Mescolando insieme questi elementi, Stefano Colantuono vince al Dallara, scaricando la crisi sul collega Delio Rossi, uscito ancora con le ossa rotte, da un altro secondo tempo in apnea del suo giovane e indecifrabile Bologna. L'Udinese infatti vince in rimonta nella ripresa con i sigilli del tutto fareganese e della Pantera colombiana, ma l'anima del successo si chiama Totò Di Natale. Col suo ingresso sullo 0-1, la squadra friulana ribalta la partita. Andiamo a vedere anche le pagelle della Gazzetta dello Sport, per quanto riguarda i bianconeri, e anche per la Gazzetta, il migliore in campo è Bado, un 7,5 per lui. Nella ripresa il centrocampista ganese spacca la partita con le sue accelerazioni, vola in gol, correndo 40 metri, poi l'assist per il sigillo decisivo di Zapata. E poi vediamo anche qua tutte le pagelle. 5,5 per l'arbitro Gervasoni, secondo la Gazzetta, che sorvola su tre mani udinesi, uno in aria, tutti molto ravvicinati. Sul primo gol ospite c'è l'ombra di un fuorigioco. Nella sostanza la sua gestione è rivedibile. E torniamo adesso in prima pagina, sempre sulla Gazzetta dello Sport. Andiamo a vedere anche cos'è successo nelle altre partite di questa sesta giornata di campionato. In apertura il risultato del posticipo fra Fiorentina e Inter, anzi, fra Inter e Fiorentina, visto che si è giocato a San Siro. La Fiorentina domina San Siro, Valanga Viola sull'Inter. Ecco il titolo che ci racconta la vittoria per 4 a 1 della Fiorentina sull'Inter. Randanovic sbaglia, Miranda espulso, tripletta di Kalinic. Sousa va sul 3 a 0, dopo 23 minuti vince 4 a 1 e aggancia Mancini al primo posto. Della Valle dice un regalo per i miei 50 anni. L'analisi è di Luigi Garlando. Firenze ha un bel progetto, Milano, che brutta domenica. Gli interisti speravano, ora si toglie gli occhiali, si scioglie i capelli e magari non è così bruttina, come dicono. Gli altri gufavano, ora le cade il trucco e si mostra ancora più brutta di quel che è. Accontentati i secondi, almeno per una notte. L'Inter è stata spazzata via dalla Fiorentina in una ventina di minuti. La capolista, a punteggio pieno, che aveva incassato un gol in 5 partite, ne becca 4 in un colpo solo. Questo dunque è in sintesi il posticipo di ieri sera, ma andiamo a vedere anche gli altri risultati di questa giornata di campionato. Li vediamo riassunti in questa grafica. la vittoria dell'Udinese a Bologna per 2 a 1, poi il Genova, prossimo avversario dei bianconeri, domenica al Friuli, ha battuto il Milan per 1 a 0, la vittoria della Fiorentina contro l'Inter per 4 a 1, ancora una sconfitta per la Juventus, battuta dal Napoli a Napoli per 2 a 1, il Roma, batte il Carpi per 5 a 1, pareggio fra Sassuolo e Chievo 1 a 1, il Torino batte il Palermo per 2 a 1 e la Lazio batte il Verona con lo stesso punteggio sempre 2 a 1 a Verona. Oggi il quadro si chiude con gli scontri fra Frosinone, Empoli e Atalanta Sampdoria. La classifica vede in testa Fiorentina e Inter con 15 punti, poi dietro il Torino a 13, Torino che ieri ha battuto come abbiamo visto il Palermo per 2 a 1 giocando una parte della gara in 9 contro 11 e poi il Sassuolo a 12 punti assieme alla Lazio Sassuolo unica imbattuta finora in questo campionato Roma e Chievo 10 punti Sampdoria 10 scusate Roma e Chievo 11 Sampdoria 10 Napoli e Milan 9 punti Atalanta 8 Palermo 7 Udinese Genua 6 Juventus 5 Empoli 4 Verona Bologna e Carpi e Bologna 3 il Carpi ha 2 punti il Frosinone chiude la classifica con un punto leggiamo velocemente anche gli altri titoli sempre sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il Milan Sinisa peggio di Pippo dov'è il gioco si chiede la Gazzetta dello Sport un gol di Zemaili e l'espulsione di Romagnoli al 42esimo rilanciano il Genoa e poi appunto Mijailovic a meno punti di Inzaghi e poi ancora il terzo posto del Torino Torino che ieri ha vinto anche grazie a un bellissimo gol di Benassi bene Benassi alla Van Basten ora il Torino è a meno 2 dalla Vetta e poi la crisi della Juventus per Allegri mese decisivo vera Juve o rischio divorzio andiamo a vedere anche i risultati che ci arrivano dagli altri sport dal mondo dei motori in particolare per quanto riguarda la MotoGP ieri si è corso in Spagna a Pedrosa Rossi che spettacolo ma Lorenzo va vale e perde il duello per il secondo posto e il suo compagno vince il distacco è di 14 punti a 4 gare dalla fine e poi invece la Formula 1 il Gran Premio del Giappone Hamilton come senna 41 vittorie per lui per quanto riguarda invece la Ferrari Fettel Terzo a testa alta i mondiali di ciclismo Freccia Sagan re del mondo gli italiani spariscono per quanto riguarda le storie da non perdere gli altri articoli nelle pagine interne della Gazzetta per il nuoto la Pellegrini ha una tentazione quella di arrivare a Tokyo 2020 nel basket Reggio Emilia festeggia la Supercoppa a Milano non c'è ancora serie B di calcio segnali di grande bari De Luca piega l'avellino nel posticipo di serie B vediamo ancora velocemente alcune prime pagine il Corriere dello Sport apre come la Gazzetta con il risultato del posticipo di ieri sera il titolo con un gioco di parole è Piorentona i Superviola umiliano l'Inter e la ganciano in testa 4 a 1 il risultato finale andiamo a vedere anche la prima pagina di Tutto Sport che invece apre con la bella vittoria del Torino Toro Le ecco il titolo è invece l'altra faccia di Torino che soffre quella di Allegri nel taglio alto Allegri al Bivio chiudiamo questa prima pagina e andiamo velocemente ritorniamo velocemente sul Messaggero Veneto per continuare a parlare di calcio calcio di Lega Pro per parlare del Pordenone che ieri ha pareggiato 0 a 0 con il Renate in casa Pordenone spuntato solo pari con il Renate troppe le occasioni fallite ma la squadra resta imbattuta ci dice il Messaggero Veneto le punte Strizzolo ed Ecenco falliscono due ghiotte opportunità in una ripresa giocata tutta all'attacco l'inedito 4-4-2 risente dell'assenza del faro Pedersoli e l'annellatore dice noi siamo questi non pretendete troppo e con questo titolo chiudiamo questa seconda parte di Rassegna Stampa chiudiamo questo nostro primo appuntamento in diretta io vi ringrazio per la vostra attenzione vi invito a rimanere in nostra compagnia buona giornata a tutti per la vostra